La storia dell'ultimo coraggio è che io avevo 4 macchine, 2 anni e poi 2 anni fa di scelta, avevamo perso, avevamo invece compratto i 15-15 anni che compratiamo. Al mese di settembre, io sono andato per proporre una macchina di scopo, di stare anche su quella, che è già sottile, agrica, che era nel momento in cui io non aggo il capo. No, era già sul successo, no, no, appena dopo il casino, perché è successo questo, ma appena dopo il casino, perché è successo questo, ma appena dopo il casino, per cui mi sono andato l'alto il trasporto, ma ci faccio l'alto, e andandoli ho scoperto che c'era il santo l'alto, e poi questo che mi dice, tra l'altro io ho preso anche del merlo, fatto dai suoi pareti, io sono rimasto un po' lì, comunque tornato a casa, ho chiamato un po' lì, sono andato l'alto il po' l'alto. Grazie. Grazie.